La basso Amici, benvenuti al Bivio e più precisamente al Bivio di Rivarone perché oggi siamo con Giovanni il nostro amico che aveva un appuntamento con la vita a questo appuntamento avrà risposto o no? Ciao Il nostro amico Giovanni doveva incontrarci niente un po' di meno che con Paris Hilton poi è successo una cosa strana bombardato quotidianamente attraverso i social e attraverso dei volantini strani come questo che vedete in questa immagine ha deciso di cambiare strada e arrivati al Bivio di Rivarone non è andato a trovare Paris Hilton no ma è andato alla sagra delle ciliegie e allora quello che ci chiediamo noi è ma cosa è successo a questa sagra delle ciliegie possiamo chiederlo direttamente a lui Giovanni è vero che tu andando alla sagra non hai sposato più Paris Hilton no non sei più diventato un uomo ricco no ma quello che ci chiediamo al Bivio è che cosa è successo alla sagra delle ciliegie? ho mangiato tante ciliegie e questo ci sembra scontato ma dopo aver mangiato tante ciliegie cosa è successo? e ho mangiato ancora ciliegie e dopo? e dopo che l'ho finita ho comprato ancora delle ciliegie e ma allora ce ne erano tante e dopo che le comprate cosa è successo? che mi sono cagato il dorso